Si sono miscolati là, erano zone, questa Persia qua era zona abitata da gente scura Ecco perché vedete che i persiani, gli iraniani come sono oggi sono di carnagione chiara Perché là i grechi, ok, hanno dominato là per molti anni, per molti anni, ok Torniamo alla lettura qui Scusatemi, mi sono perso un attimo Allora iniziamo a leggere da qua Dopo di te sorgerà un altro regno inferiore al tuo che era il regno dei Persi e Medi, ok Poi un terzo regno di bronzo che dominerà sulla terra Vedi qua hanno detto che dominerà sulla terra, ok Perché il suo impatto è stato là Che il regno di Alessandro, Magno e i suoi quattro generali Solucius, Ptolemi, Cassandra e o... Sì, quell'altro là, non mi ricordo sempre mai O bene così Avete capito comunque che quando regnavano i male si moltiplicarono sulla terra, ok Poi qui dice Poi vi sarà un quarto regno, forte come il ferro Poiché come il ferro spezza e abbatte ogni cosa Così pari al ferro che tutti frantuma e sspezzerà ogni cosa E che regno è questo? È il regno degli antichi romani Arriviamo qui Avete visto due gambe Perché il regno della Roma è stato diviso in due Roma dell'Ovest e Roma dell'Occidente Ok, se non sbaglio Ok, avete visto Da questi è venuto fuori il regno degli antichi romani Che alla fine è sempre il governo dei figli di Esau È un regno che è venuto fuori, mi sa, più da Cassandra qua Ok E andiamo a vedere Ha preso potere nel 63 prima di Cristo Ok Nel 70 dopo Cristo Dopo la morte di Cristo È andato a distruggere Gerusalemme Ok È il secondo tempio che ha costruito Salomone Figlio di Davide Ok E sì Avete visto? Comunque Qui vedete che c'è Giulio Cesare Giulio Giulio Cesare Nero Impero Nero Impero Titus Cleosemius Tutti comunque andate Conoscete questa storia degli imperi romani E hanno governato per tanti anni E sono arrivati a un punto Nel 96 dopo Cristo Sono andati i figli di Israele No Non 96 Sì 96 hanno cominciato a perdere il regno Ok Hanno perso il regno E i figli di Giacobbe hanno preso potere Che questo è tutta un'altra storia E la storia Se volete se guardate i video precedenti che ho fatto Che ho parlato della storia dei mori Ok Dei mori di Europa E qua Quando Quando l'impero romano Hanno perso il regno Nelle mani di questi mori Che sono i figli di Giacobbe Hanno preso potere Sono andati in potere Diciamo Parlando da Costantinopoli Costantinopoli era un Jake Jake era un figlio di Giacobbe Ok Non è proprio come l'hanno dipinto oggi Ok Sono andati in potere i figli di Giacobbe E hanno preso controllo del regno Ok Hanno governato Per più di mille anni Poi dopo Sono tornati in potere Sono tornati in potere i figli di Esau Ok Torniamo a leggere E dice Qui come i piedi Poi Vi sarà un quarto regno Forte come il ferro Perché forte come il ferro? Perché gli imperi romani Erano Andavano A conquistare tutti Con la forza Ok La avevano Avevano Diciamo L'esercito più complicata Avevano anche gli scudi Tutto fatto di ferro Le spade Tutte queste cose qua E spezzavano Ogni Ogni nazione Che non li andava Che li andava contro Spezzavano tutti Ecco perché Si dice Poi che come il ferro spezza E abbatte ogni cosa Così pare al ferro Che tutti frantuma Esso spezzerà ogni cosa Si L'impero romano Ha conquistato Diciamo Ha regnato quasi tutto il mondo Diciamo Ha regnato Abbastanza forte Ha conquistato anche Tutti gli altri stati Tutto con la forza Ok Come i piedi E le dita In parte Da gila Da vassoio E in parte Di ferro Ok Che tu hai visto E dice Come i piedi E le dita In parte Da gila Esso spezzerà ogni cosa Come i piedi E le dita In parte Da gila Da vassoio E in parte Di ferro Che tu hai visto Così sarà diviso Quel regno Vedi Parla sempre Dello stesso regno Ok Il regno Degli antichi romani Che dopo Diventerà diviso Ok Ma vi sarà In esso Qualcosa Della consistenza Del ferro Poiché tu hai visto Il ferro Mescolata Con la fragile Agila Ok Infatti Se torniamo Qui Scusatemi Dopo Il regno Degli antichi romani Ok Torna Sempre Un altro regno Perché Quando Quando I Jake I figli di Giacobbe Avevano conquistato Questo regno Non hanno cambiato Il nome del regno È rimasto Ok E il regno Comunque Avevano sempre I figli di Esau In mezzo Non hanno distrutto Tutti i figli di Esau Infatti Loro si sono mescolati Con i figli di Esau Ok E da tutto questo È nato Un altro regno Che Uno Due Tre Quattro Che è quinto Uno Due Tre Quattro Che è quinto regno Ma vedete C'è sempre Il ferro Mescolato Con l'agila Ok È il ferro E che cosa è Se prendete il ferro E l'agila Insieme Si mescolano Ma Non hanno La consistenza Non hanno La consistenza Non si mescolano Bene Ok E poi comunque Si sente che Sempre che il ferro Domina Ok E Torniamo qua Come i piedi E le dita In parte D'agila Da vassoio E in parte Di ferro Che tu hai visto Così sarà diviso Quel regno Parla sempre Del regno Dei romani Così sarà diviso Quel regno Ok Ma vi sarà Innesso Qualcosa Della consistenza Del ferro Poiché Tu hai visto Il ferro Mescolata Con la Fragile Agila Come le dita Dei piedi Erano in parte Di ferro In parte D'agila Così Quel regno Sarà in parte Forte In parte Fragile Hai visto Il ferro Mescolato Con La mole Agila Perché Quelli Si mescoleranno Si mescoleranno Mediante Matrimonio Wow Questo è Fortissimo E questo Parla Di quando Quando I mori Ok I mori Quando sono Hanno conquistato Questo regno Il regno L'antico Romano Infatti Ecco Perché vedete Tutte quelle Statue In Grecia Di Sì Di Generali Scuri Infatti Quando Alessandro In grande Alessandro Magno Quando Conquistava Ok Aveva Un Aveva Un Generale Che era Un figlio D'Israele Era Un moro Ok Ma questo Non lo dicono Se andate A trovare La storia Bene Vedrete Questo Fatto Qua Ok Ma Non si uniranno L'uno All'altro Così come Il ferro Non si Amalgama Con l'argila Ok Al tempo Di questi Re Yahweh Del cielo Farà Sorgere Un regno Che non Sarà Mai Distrutto E che non Cadrà Sotto Il dominio Di un Altro Popolo Spezzerà E annietterà Tutti Quei Regni Ma Esso Durerà Per Sempre Proprio Come La pietra Che hai Visto Scarsa Dal monte Senza L'intervento Umano E spezzerà Il ferro Il bronzo L'argilla L'argento E l'oro Il gran Dio Yahweh Ha fatto Conoscere Al re Quello Che deve Avvenire D'ora In poi Il sogno È vero E sicuro È La sua Interpretazione Avete Visto E qui Torniamo E questo Questo È Quello È La pietra Ok Fatta Non con le mani Con niente Ok E andiamo A parlare Un po' Di questo Regno Qua Questo Regno Che vedete Se guardate Bene È L'impero Romano Rivisto Che È È molto Importante Se guardate I piedi Hanno Dieci Dita Se andate A vedere Queste dieci Dita Rappresentano Il nato I paesi Del nato Ok Con l'America Ok Questo Impero Si è spostato In America Di giorno D'oggi Ok Ma sapete Comunque Come è creata America Che sono sempre Ok I antichi Romani Attraverso Il bugiardo Là Cristoforo Colombo Sono andati Là Non hanno Scoperto Quel posto Là Perché c'erano Altri Già Che vivevano Là Hanno Ucciso Messo In schiavitù Perché Così Fanno I figli Di Esau I figli Di Esau Fanno Così Vanno Distruggono E raccontano Bugie Infatti Se andate a vedere La definizione Della parola Diavolo Diavolo È un uomo Che ingana Racconta Bugie E uccide E questi Sono i figli Di Esau Vanno Ovunque Vanno Non è mai Di loro Loro Devono Conquistare Altre Tere Si mettono Come quelli Che erano Della terra Prendono Le loro Posizioni Cambiano Tutta la Storia Ok Perciò Vedete Dieci dita Rappresenta Il paese Nato Ok Che Poi andremo A vedere Molto più Profonda Questo Qua Ma Come Che non Voglio Tenere Troppo Lungo Questa Lezione Noi In questo Momento Stiamo Vivendo Qua Stiamo Vivendo In questo Regno Ed è Importante Che capite Che tempo E poi Le scritture Ci dicono Come Scritto Nel libro Scusatemi Nel libro Di Matteo Il libro Di Matteo Mi sa In capitolo 24 Ok Qui Da versetto 3 Mentre Mentre Eri era Seduto Sul monte Degli Olivi Discepoli E si Avvicinarono In Disparte Dicendo Dici Quando Avverranno Queste Cose E Quale Sarà Il Segno Della Tua Venuta E Della Fine Dell'età Presente E Yahweh Sce Ha Disposte Loro Guardate Che Nessuno Vi Seduca Poiché Molti Verranno Nel Mio Nome Dicendo Io Sono Il Cristo Ok Io Sono Il Messia Il Messia Vuol dire Cristo E Sedurano Molti Voi Udrete Parlare Di Guerra Di Rumori Di Guerra Guardate Di Non Turbarvi Infatti Bisogna Che Questa Venga Ma Non Sarà Ancora La Fine Perché Insoggerà Nazione Contro Nazione Regno Contro Regno Ci saranno Carestie Teremote In vari Luoghi Ma Tutto Questo Non Sarà Che Principio Di Dolore Allora Vi Abbandonerò Allora Vi Abbandonerò All'oppressione E Vi Uccideranno E Sarete Odiati Da Tutte Le Gent A Motivo Del Mio Nome Questi Sono I Segni Che Ci Ha Dato Yahweh Shai Della Sua Seconda Avvenuta Ed È Quello Che Stiamo Vivendo Adesso Abbiamo Già Visto Nazione Contro Nazione In Questo Momento Che Sto Parlando Non Fanno Tanto Nazionali Ma Armenia E Azerbaijan Sono In piena Guerra In Nigeria C'è C'è Quasi Una Guerra Civile Che C'è Sempre Stato C'è Carestia Tanti Stanno Soffrendo E Sapete Tutte Queste Cose Stanno Succedendo E Siamo In Questo Regno Adesso Poiché Anche Le Scritture Dicono Quando I Malvagi Sono In Potere La Gente Soffre Si Trova Nel Libro Di Proverbi Mi Sa Ma Ora Non Lo Troviamo E Questo Piedra Che Si Sta Parlando E Sono I Fili Di Giacobbe Che Si Stanno Svegliando Alla Verità In 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 Gli Apostoli Gli Apostoli Maria Che Hanno Portato Questa Verità Delle Dodici Tribù D'Israele Che Sono Ok E Poi A Finire A Gli Apostoli Anziani Della Great Millstone Infatti La Great Millstone E E Il Gruppo E Gruppo Ok Che Alla Fine Siamo I Fili D'Israele Non Siamo Una Chiesa Non Siamo Niente Ma Questa Verità Ci È Stato Dato Ma Siamo Più Odiati Al Mondo Di Tutti Gli Altri Ok E Siamo Siamo Riveliate A Questa Verità E Questa Verità Che Stiamo Tirando Fuori Sta Facendo Così Tanto Male Che Ci Devono Censurare Quando Facciamo I Video Parlando Della Verità Li Tolgono Dall'Internet Ci Bloccano Infatti Ci Hanno Targato Come Dei Terroristi Immaginate Non Facciamo Altro Che Parlare Della Verità Ma Siamo Stati Targati Come Dei Terroristi E Questo Succede Tutto Come Abbiamo Visto Nelle Profezie Qua Di Matteo 24 E Io Spero Che Questa Lezione È Stata Molto Edificante A Voi Fratelli Che State Cerrando La Verità Vi Ribadisco Per Enesima Volta Israele È Miscolato In Tutte Le Nazioni E Sarà Sperso In Tutte Le Quattro Punti Della Terra I Fili Di Giacobbe Sono Soltano D'Appetuto In Europa I Napolitani Siciliani Veneziani D'Appetuto Maggior parte Di Voi Siete Figli D'Israele Non Conta Il Colore Non Conta Il Colore Della Pele Perché Israele Sarebbe Come L'Uccello Specolato Con Diversi Colori Ok Comunque Vi Mento In Guardia Che Yehawah Shai Il Figlio Del Padre Yehawah Sta Per Ritornare Sta Per Ritornare Sta Per Ritornare E Infatti Se Vedete Questa Statua Siamo Qua Alla Fine E Questa Pietra È Stata Già Fatta E Questa Pietra Sta Già Facendo Male A Questa Statua Attraverso La Verità Ok E Questa Pietra Fa Parte Anche Yahaw Shai Perché Lui È Radice È Radice Di Davide Come Nel Video Precedente Il Figlio Del Padre Yahaw Shai È Venuto Come L'uomo Ok Attraverso Davide Ok È Della Tribù Di Giuda Ok Lui Fa Parte Di Questa Pietra Stiamo Per Distruggere Tutto Questo Che Vedete Tutto Questo Regno Qua E Questa È La Lezione Spero Che Siete Stati Edificati E Vi Lascio Tutto Questo Nel Sacro Nome Del Padre Yahawah Nel Nome Di Suo Figlio Yahawah Shai Shalom Alla Alla Prostima Shalom Shalom